Ciao ragazzi, buongiorno, il mio nome è Teodoro Piccini e sono un ex studente dell'Istituto Pascal di Giaveno. Oggi sono qua per raccontarvi della mia esperienza, di quello che è stato il mio percorso, di quelle che sono state le mie scelte. Spero di ispirarvi e di darvi qualche elemento in più per una scelta un po' più consapevole. Iniziamo parlando un po' di me. Io sono classe 1988 e mi sono diplomato nel 2007. Al Pascal mi sono iscritto al liceo scientifico e nonostante siano passati diversi anni noto con piacere che i professori che mi hanno seguito in questo percorso insegnano ancora al Pascal. Quindi su di loro posso far da garante e dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Sulle nuove leve ho avuto il piacere anche di conoscere qualche nuovo professore e posso dire che hanno la mia più totale stima e mi sento di consigliare questo istituto anche per nuove leve. Detto questo vi racconto un po' come mi sentivo quando ho dovuto scegliere dell'istituto. Di sicuro certe cose le vi verete anche voi. Io ero abbastanza consapevole del fatto che avrei scelto una carriera scientifica. Quindi in ogni caso il liceo scientifico era già la mia scelta a priori. Non ero convinto dell'istituto. Perché? Perché avevo amici che hanno scelto altri percorsi ma hanno scelto anche altri istituti. Ero spaventato dalla nomea del Pascal. Perché il Pascal è la scuola che ti ruba al tempo qualsiasi altra cosa da quello che dicono. È la scuola dove tu devi studiare giorno, notte, weekend. Questo non è vero perché è una scuola che ti dà molto, è una scuola che ti chiede molto, però non ho mai dovuto rinunciare a quello che erano le mie passioni. Al ciclismo, al mountain bike, agli sport invernali, alle escursioni in montagna, tutto quello che era al di fuori dello studio, riuscivo a conciliarlo. Quindi posso dire che questa nomea qua, da un certo punto di vista, è sbagliata. Mentre invece sul discorso della formazione mi sono trovato molto bene. Perché? Perché una volta finita i miei cinque anni presso questo istituto, una volta completati i miei cinque anni di studi, mi sono iscritto al Politecnico di Torino, dove ho frequentato il corso di ingegneria gestionale e nei primi due anni ho vissuto di rendita. Non sono diventato matto a prepararmi per gli esami come analisi, come geometria, come chimica, come fisica, perché avevo già tutte le basi necessarie per poterli affrontare. Mi sono seguito le mie lezioni, ho studiato quello che c'era da studiare senza dover diventare matto, senza perderci le notti e sono riuscito a superare tutti gli esami del caso. Il Pascal mi ha insegnato molto a dedicarmi al mio obiettivo, a imparare a capire le cose e imparare a metterle in pratica nel miglior dei modi. Questo mi è servito per l'università, mi è servito per la mia carriera lavorativa. Difatti dopo il Politecnico mi sono trovato prima tramite un tirocinio in un'azienda del Torinese abbastanza importante e poi come consulente e poi nell'azienda in cui lavoro attualmente mi sono trovato davanti a momenti di difficoltà, momenti in cui c'era a mettere in pratica certe conoscenze acquisite a scuola, all'università eccetera e approfondire nuovi argomenti. Il Pascal mi aveva dato tutti gli strumenti che mi servivano per poter affrontare al meglio queste situazioni e devo dire che da mia carriera da consulente, da tecnico in questa multinazionale americana, adesso da manager di R&D posso dire che sono tutti elementi che messi insieme mi hanno sempre aiutato. Quindi spero di avervi raccontato le cose più importanti, spero di non avervi annoiato troppo e vi auguro di scegliere le migliori dei modi per il vostro futuro. Buona continuazione, ciao!